Destinazione Monterosa-Est, una sorta di master plan per il turismo e per lo sviluppo di Macugnaga e dell'intera Valle Anzasca. Come nasce e come si sviluppa questo progetto? Allora, questo progetto nasce innanzitutto dalla voglia di noi operatori e amministrazione, in questo caso appena insediata, di riportare agli albori della cronaca quella che è Macugnaga con la pariteste del Monterosa e soprattutto la Valle Anzasca. Infatti questo progetto sarà un progetto di valle e non più di destinazione Macugnaga. Un progetto da oltre 30.000 euro per il riposizionamento di Macugnaga e dell'intera Valle. Perché? Perché Macugnaga e l'intera Valle devono uscire dalla Valle, andare sul territorio e andare a farsi conoscere nel mondo. Per organizzare il tutto in partenza si vogliono tutta una serie di programmi, di investimenti, altrimenti senza investimenti non si fanno le opere. Che cosa serve a questo territorio? Macugnaga storicamente è un posto turistico e secondo il nostro modo di vedere, ma soprattutto l'analisi che abbiamo fatto, avendo esperienze internazionali di questo tipo di progetti, secondo noi c'è bisogno proprio di ridare un po' una sinergia, quindi una messa a sistema di tutto quello che c'è, c'è veramente tantissimo. Insomma noi siamo qua da un paio di giorni e abbiamo visto una marea di cose, tanto prodotto, che magari ha necessità di essere un po' più aggregato e quindi di essere messo a sistema per il nuovo modo di acquisto del prodotto turistico da parte dell'utente finale. Questo in sintesi è il cuore della strategia. Quali saranno le prime azioni o le più urgenti? Beh, le prime azioni, insomma, l'idea è pensare lontano ma gire vicino e quindi immaginiamo che da subito ci siano alcune azioni per un coordinamento dell'immagine e del messaggio che verrà comunicato al mercato, dopodiché subite azioni commerciali, quindi educational, eventi per la stampa, quindi proprio posizionamento commerciale puro. Questi saranno proprio i primi due momenti e poi una grossa parte che è un po' la novità per questo tipo di progetto legata alla formazione degli operatori perché è corretto che tutti possano competere allo stesso modo e siano anche pronti ai nuovi strumenti con cui oggi si fa turismo. Qual è il mercato di riferimento? Beh, il mercato di riferimento in questo momento è abbastanza Italia su Italia e poi Nord Europa. Lei tra cinque anni come se l'immagina a Macugnaga e alla Valle Anzasca? Beh, me lo immagino un posto pieno di gente rispetto al numero totale delle camere disponibili perché lei sa bene che insomma il turista si misura in posti letto perché immaginiamo non una situazione di sovraturismo, quindi di turismo che sia sostenibile, mi immagino un'economia circolare, quindi l'idea è di creare posti di lavoro per le persone che vivono nella valle, questo è proprio uno degli obiettivi che ci siamo dati e con un turista che rispetto a oggi abbia la voglia di spendere anche qualcosina in più.